Buongiorno, benvenuti a Omnibus, sono le 7.49. L'accelerazione sulla giustizia dopo la conferenza stampa sull'economia, il rilancio dell'immunità parlamentare e ancora del disegno di legge sulle intercettazioni, di un provvedimento sulle intercettazioni, insomma le contromosse di Berlusconi. Quanto spazio di manovra c'è per queste contromosse per Silvio Berlusconi? Quanto contano invece le divisioni degli altri, la crisi di futuro e libertà? Quanto contano le divisioni del Partito Democratico? E quanto invece Berlusconi può contare sull'appoggio della Lega? Parliamo di tutto ciò con Marco Conti del Messaggero, con Goffredo De Marchis di Repubblica, Massimo Bordin di Radio Radicale, giornalista e autore di un libro su Marchionne che è Marco Ferrante e con Luciano Lanna, direttore del Secolo d'Italia, in collegamento da Milano, spero che ci senta, Filippo Facci di Libero. Buongiorno a tutti. Allora, comincerei subito con Facci da Milano. Oggi Libero, il suo giornale, ha un editoriale in prima pagina di Pietro Senaldi che è abbastanza dubitativo sul reale spazio di manovra per quanto riguarda la riforma della giustizia. Il titolo è Riforma perfetta, peccato che arrivi fuori tempo e in effetti ci sono espresse molte riserve da Senaldi. Che cosa ne pensi tu facci? Che non ho letto l'editoriale di Senaldi per cominciare. Va bene, quello d'accordo, ma cosa ne pensi sulla praticabilità di questa riforma o se invece la scelta politica è nell'annuncio? Ci sono dei misteri attorno a tutto ciò che viene chiamato riforma della giustizia in questo Paese e che pure in teoria è sempre in cima all'agenda dei governi di centrodestra e apparentemente della testa di Berlusconi. Non è mai chiaro per quale ragione non vengano mai fatte o abbozzate seriamente. Uno poteva pensare seriamente che ultimamente i problemi fossero legati alla componente poi distaccatasi, quella appunto finiana. Ed era vero perché le velleità delle riforme che riguardavano le intercettazioni, i processi brevi e tutte le varie cose poi demonizzate dall'opposizione in effetti sono state frustrate. Quindi confesso di non saper rispondere alla domanda anche perché io capisco che ci siano dei provvedimenti che necessitino di tempo, di numeri, di uomini per essere votati. La specialità di questo governo è quella di far sembrare delle ritorsioni, mettiamola così, anche dei provvedimenti che magari sono in programma dal 1994 e parlo per esempio dell'immunità parlamentare o parlo comunque del crescente desiderio di regolamentare come nei paesi cosiddetti normali le intercettazioni telefoniche. Così solo come appunto storico mi permetto di ricordare ai presenti, che se lo ricorderanno da soli probabilmente, che noi abbiamo in Parlamento ministri oltre che parlamentari che facevano parte del governo e del Parlamento che abrogò parzialmente l'immunità parlamentare che ora si vuole reintrodurre. E questo sempre per dimostrare come funziona questo paese, non è poi neanche così vero che per i passaggi che necessitino di modificare la Costituzione ci voglia tutto questo tempo, perché il record italiano di tempo appunto breve per modificare la Costituzione ci fu allora, nel 1993, dopo il famoso voto che riguardò le mancate autorizzazioni e procedere per Craxi, quando impiegarono sei mesi in tutto, compresa l'estate, per modificare appunto l'articolo 68 della Costituzione che ora si vorrebbe parzialmente ripristinare. La lezione da imparare è che allora avvenne perché ci fu comunque tutto l'arco costituzionale d'accordo. L'altro record diciamo per cui fu modificato l'articolo 111 della Costituzione nel 1999, governo D'Alema per una questione che atteneva al giusto processo, altra modifica costituzionale che riguardava la giustizia e anche lì nove mesi di tempo con tutto in sostanza l'arco costituzionale d'accordo, a parte due o tre voti. Cosa insegna questo? che a quanto pare perlomeno per temi come quelli della giustizia non c'è modo di fare modifiche serie senza toccare la Costituzione e al tempo stesso non c'è modo di toccare la Costituzione senza avere il famoso, le famosissime, com'è che si dice, ampie condivise, mi manca la parola, però insomma sono sempre quelle, no neanche, ci sono quelle che dice, cosa dice sempre Napolitano? Le ampie convergenze, vabbè, le ampie convergenze, in conclusione quindi non c'è niente di strano, Berlusconi e il governo vogliono fare delle riforme che in teoria vogliono fare da sempre e che da sempre non riescono a fare, quindi i dubbi di Senaldi che non conosco perché non ho letto l'articolo, presumo possono riguardare questo. Sì, riguardano in effetti la tempistica, chiederei subito a Marco Conti che segue sempre Berlusconi da anni e anni in tutte le sue vicende proposte quindi, perché i giornali comunque oscillano tra l'allarme, naturalmente i giornali più vicini all'opposizione, sono titoli e pezzi allarmati per queste dichiarazioni di Berlusconi perché poi sono filtrate dal Consiglio dei Ministri e in realtà non le ha dette lui, queste non le ha annunciate lui. Certo, come spesso capita, come diceva prima Facci, è dal 94 che si parla di questo tipo di riforme e non è stato mai fatto, io una risposta forse alla domanda perché non è stato fatto ce l'avrei perché poi alla fine quello che è sempre stato un po' c'è stato una sorta di scambio più o meno tacito tra la politica, non mi rischio soltanto a Berlusconi e la magistratura su fare o non fare alcune cose. Questo è avvenuto, questo sta avvenendo anche adesso perché di fatto all'improvviso, anche se tutto contenuto nel programma, se Alfano stesso credo che sia la seconda o terza redazione che fa in Consiglio dei Ministri, quindi era tutto noto, tutto atteso, tutto nel programma, però ovviamente la tempistica è quella che c'è l'alone ricattatorio come diceva prima Facci che effettivamente spunta, anche perché poi si parla di riforma della giustizia, di intercettazioni, sembra appunto voler mettere della benzina, dei bidoni di benzina davanti in modo che se voi pensate di appiccare un incendio ce l'ho anch'io, posso fare fuoco anch'io, questo credo che sia. Poi sulla fattibilità, è vero che sulla giustizia abbiamo sempre avuto e appuntato alcune osservazioni su un ultimo partito, mi riferisco nel 2006, c'erano i centristi che alcune cose, anche su questo argomento non volevano fare, anche se l'Udc è sicuramente meno rigida di quello che possono essere ora i finiani, però anche loro a suo tempo supposero come i finiani di ora sulle intercettazioni, però c'è sempre un dato che è, e lo ricordava anche Facci, c'è la Lega, c'è la Lega che alcune cose che sono state, è stata meno diciamo in prima fila, in posizione più defilata, ma per esempio l'immunità, l'area introduzione dell'immunità, le intercettazioni intese nella prima versione originaria, vedremo che la Lega non ci sarà, poi ci sarà un no della Lega magari su altri fronti, in modo diverso, in modo trasversale, tireranno fuori altri elementi per dire però se facciamo questo deve passare quest'altro, però comunque sia, uscirà fuori, ne sono certo, qualche altro soggetto che si metterà di traverso e quelle convergenze di cui parlava prima fa ci sarà impossibile trovarle, quindi siamo veramente, diciamo siamo elementi di campagna elettorale. Dall'Udc, forse dall'Udc potrebbe esserci sull'immunità? Sì ma, sì, possono esserci, però ricordiamoci che alcuni provvedimenti particolarmente impopolari, anche quello che è stato fatto diciamo di indutto e amnistia, Bordini se lo ricorda bene da Prodi all'inizio della legislatura precedente, furono fatti in maniera larga, no? Però poi ognuno diciamo con lo scaricarsi le responsabilità perché sono un provvedimento come l'immunità, è facilissimo che far presa su un'opinione pubblica che lo vede come un fumo negli occhi, specie in un momento di questo genere. Stiamo ritornati al più albergo trivulso, siamo ritornati in un clima che... Ci torniamo al più albergo trivulso, naturalmente. Bordini, chiamati in causa subito, effettivamente è un momento in cui ci possono essere delle convergenze ampie queste o è proprio impensabile quindi che restino così degli annunci, delle minacce di Berlusconi? È impensabile anche immaginare che possa fare delle riforme della giustizia con i pochi voti in più, con la debolezza della maggioranza che ha? Ma bisognerebbe che una parte del centro-sinistra trovasse il coraggio di esplicitare un accordo che su alcuni temi c'è oggettivamente ed è trasversale a maggioranza di opposizione perché per esempio è evidente che c'è un filo che lega Di Pietro a Bossi e alla Lega da un lato e un altro che può invece vedere convergere un fronte che viene dai settori più avveduti del PDL a quelli più attenti ai temi dei diritti nel Partito Democratico. Da questo punto di vista il Partito Democratico ha già diciamo così un avamposto organizzato che sono i sei radicali che già su temi della giustizia si sono differenziati senza peraltro grande scandalo da parte dello stesso Partito Democratico che sapeva insomma chi si metteva nel gruppo parlamentare e non ha protestato più di tanto in caso di voti parlamentari differenziati. Però il problema credo che al momento sia un altro e le cose che diceva Facci in apertura mi sembravano di grande buonsenso. In sostanza Berlusconi si trova in una situazione imbarazzante da due punti di vista. Da un lato è un po' quello dal quale Facci è partito il fatto che qualsiasi iniziativa sulla giustizia prenda questo governo appare una riduzione nei confronti delle indagini che vedono il Presidente del Consiglio oggetto o comunque il capo dell'opposizione in altri momenti della nostra storia politica. Attenzione qua c'è un tema assai delicato che per carità va preso con le pinze, però è un dato di fatto che nel momento in cui diceva Facci sono cose che sentiamo dal 94, vero? E dal 94 Berlusconi è oggetto di attenzioni da parte della magistratura, in alcuni casi non infondate, non si può definire infondate del tutto, l'ultima vicenda per esempio, a mio parere. Però è anche vero che anche i ministri del centro-sinistra che si sono trovati a dover porr mano a qualche riforma sulla giustizia si sono ritrovati in situazioni simili. Il caso di Mastella, anche lì certo c'erano questioni che erano tutt'altro che infondate, eppure allora c'è questo aspetto di un rapporto, diciamo così, si dice in genere un rapporto malato fra giustizia e... Per dire che ci sono delle possibilità di ritorsione anche da parte, anche al contrario. Ebbene lì la ritorsione non si chiarisce bene chi la fa, insomma, voglio dire non è un caso che dal 94 ai nostri giorni sul ministro di giustizia deve arrivare in qualche modo, in qualche forma, naturalmente non ufficiale, ma pure c'è il benestare dell'Associazione Nazionale Magistrati. Questo vale perfino per i governi di centrodestra, parliamoci chiaro. Quindi questo è un aspetto dal quale non si schioda. Quanto alle riforme annunciate da Berlusconi, volendo banalizzare quello che è successo però fino a un certo punto. Quello che è successo ieri è stata la seguente cosa, che il ministro Alfaro è andato in consiglio dei ministri, ha fatto un discorso sulla giustizia, i presenti si sono congratulati e finisce tutto. Come era accaduto già da settembre in poi, almeno 3-4 volte, immaginiamo sempre lo stesso discorso. Parliamoci chiaro, la separazione delle carriere, sono cose che questa nuova formazione politica nel 94 diceva come dato fondativo del programma, sono passati 17 anni del ministri. Ecco, invece da Goffredo De Marchis vorrei chiedere se proprio, perché ieri qualcuno nel PDL diceva ma c'è la proposta sull'immunità parlamentare, c'è la proposta della Chiaromonte in Senato che è una senatrice del Partito Democratico, ma nello stato attuale per il Partito Democratico è possibile intavolare qualsivoglia forma di dialogo nei confronti di Berlusconi. Secondo me no, anche se ha ragione Bordini, perché sarebbe semplice dire che insomma il fondo del problema è Berlusconi, cioè siccome obiettivamente che qui ci sia un effetto ritorsivo, anche facendo un po' la cronologia di quello che è successo, lo si può ben vedere. Berlusconi ha detto in televisione, in uno dei video messaggi, mi pare puniremo i magistrati e due settimane dopo, anche se ha ragione Massimo, è solo un discorsetto diciamo, due settimane dopo si ripropongono tutti quei temi che notoriamente per i magistrati sono fra virgolette punitivi, ostici e inaccettabili diciamo da questo punto di vista. Io penso che all'inizio il Partito Democratico di Bersani abbia provato a intavolare, ci ha provato un po' con tutti, quindi ci ha provato anche con Berlusconi un dialogo, in questo caso sulla giustizia, con il PDL, con Berlusconi, con il PDL, con Alfano, c'è stata una proposta a Orlando che non era punitiva nei confronti dei magistrati, ma insomma diceva tante cose che diceva anche il PDL, c'è quella proposta Chiaromonte che non è una leader, una dirigente di primissimo piano del Partito Democratico, ma per esempio quella stessa proposta è appoggiata da un ex Presidente del Senato come Franco Marini che sarebbe d'accordo a reintrodurla. Però francamente a me non sembra questo il clima e anche quando vedo le aperture di Casini sull'immunità parlamentare, Casini sostanzialmente ha sempre bisogno un po' di smarcarsi dal tema giustizialismo, in fondo Casini viene da una storia che è quella della democrazia cristiana e ha secondo me ancora un bacino di voti della democrazia cristiana, cioè di un partito punito molto severamente da Tangentopoli, al di là delle sue colpe e quindi anche per conservare quel nocciolo che sia più o meno grande non vuole dare l'impressione di essere giustizialista o comunque di sostenere dei provvedimenti che possano apparire come favorevoli o comunque completamente proni alla magistratura. Però poi al momento decisivo, mi pare anche dopo le cose che ha detto in tutta questa vicenda su Berlusconi, mi sembra difficile che poi possa fare una cosa insieme a Berlusconi, ecco. E che ci sia lo spazio. Di concreto. Allora, Luciano Lanna, che è il direttore del Stato Italia, è anche l'autore di questo libro, Il fascista libertario da destra oltre la destra, tra Clint Eastwood e Gianfranco Fini, eccolo qua, che è pubblicato da Sperling e Kupfer. A Luciano Lanna, però in quanto appunto direttore del Stato Italia, quindi portatore del pensiero su future libertà, insomma chi meglio di te. Berlusconi continua a dire, adesso che non c'è Fini, finalmente si possono fare queste cose e quindi approfittando di una crisi oggettiva di questa nuova formazione appena nata, ma basta diciamo così la crisi di futuro e libertà per consentire queste riforme? Intanto non c'è una crisi di un partito, un partito che sta nascendo, che è nato in questi giorni, è il racconto mediatico che pone la questione della crisi ed è fisiologico che ci siano anche delle, ci sia una dialettica interna, ci siano alcuni parlamentari che hanno avuto dei problemi, ma il problema è che un partito non nasce in Parlamento, un partito nasce nella società civile, nasce nel dibattito culturale, nasce proprio nella società. Chi è stato al congresso costituente di Milano ha visto che ci sono state migliaia di persone arrivate lì a proprie spese di varie provenienze politiche tra l'altro, con formazioni, molti erano persone che non hanno mai fatto politica in vita loro, c'erano persone di provenienza socialista, liberali, c'erano di tutto, ex radicali. Un partito che sta nascendo non può essere confuso con il residuo parlamentare di un altro percorso, perché i gruppi parlamentari che suonati prima sono il residuo di una battaglia interna che c'è stata. Però è un partito che nasce da un gruppo parlamentare. Allora, sì, ma nessun partito nasce da un gruppo parlamentare e questo Fini l'ha detto molto chiaramente, tutti noi lo scriviamo chiaramente tutti i giorni, cioè che Fini abbia ereditato per la crisi del PDL, per essere stato espulso dal PDL, dei parlamentari che si sono sentiti di seguirlo, eccetera, questa è una questione. Un partito politico nasce su altre questioni. Questa è una cosa che i giornali non scrivono, ma che è fondamentale secondo me, perché poi saranno le elezioni prossime a dire qual è la consistenza di un partito, quale sarà la consistenza dei poli, quindi cominciamo a dire questo. Quello che dice Berlusconi in realtà è altro. Berlusconi continua a fare propaganda perché stiamo parlando di giustizia, poi qualche giorno fa parlava di economia, parlava della riforma costituzionale, ma sappiamo tutti che sono percorsi normativi, legislativi che non andranno mai in porto perché non ci sono le condizioni. Il dato fondamentale è la crisi, il blocco parlamentare che c'è. Il voto del 14, la fiducia del 14 dicembre non è che è il sintomo di una forza di Berlusconi, ma della sua debolezza. Una maggioranza che era fortissima nel 2008 e che oggi ha... Non è neanche il sintomo di una forza delle opposizioni. No, non è una forza delle opposizioni, però come ha scritto ieri Giovanni Sartori su Corriere della Sera, secondo me in un pezzo fondamentale, e lo leggo, scriveva ieri Sartori, non si era mai visto nemmeno in Italia che ben 315 parlamentari votassero, accreditassero la favola, favola anche per un bambino di 6 anni, di un Berlusconi che crede davvero che la Carnosa Rubbi fosse una nipote di Mubarak e aggiungeva ancora Sartori. I 315 sono, come scrive anche un altro politico che è Mauro Calise, inglobati in un partito personale al quale debbono obbedienza cieca perché se fiatano perdono il posto. Questa è l'anomalia italiana e Sartori faceva bene. Il Porcellum, la legge elettorale attualmente in vigore, ha creato un'anomalia gigantesca che non consente a una maggioranza di governare, di fare le riforme, ed è il vero problema sul quale le opposizioni possono trovare il punto per allearsi e trovare la fuoriuscita dalla transizione. Il berlusconismo regime, il berlusconismo che non crea politica, che non può fare le riforme, nasce da questa questione. Sì, però quell'osservazione è anche a doppio taglio perché sono 315 che hanno votato, l'hanno votata quella cosa lì, quindi quei numeri per questa cosa anche un po' assurda e paradossale ci sono stati. Una democrazia normale in cui si è ricattato in questo modo non consente però ad un Parlamento di funzionare. Il limite grosso di un partito che vuole nascere prescindendo dai gruppi parlamentari, da ciò che c'è, il grosso limite che è un partito è che si regge su una poltrona, si regge sulla poltrona di quello del fondatore. No, sai perché? Perché il problema è andare oltre. Vi devo interrompere perché adesso c'è la pubblicità e siamo già fuori di un minuto e però subito dopo riprendiamo, tra poco. Bentornati a Omnibus, vorrei chiedere prima di ritornare alla questione di futuro e libertà e quindi del rapporto di questa vicenda con le contromosse di Berlusconi, vorrei chiedere però a Marco Ferrante che è anche collaboratore del Sole 24 Ore che se Berlusconi ha annunciato anche delle riforme economiche insieme a una conferenza stampa insieme a Giulio Tremonti vale lo stesso discorso che stiamo facendo per la giustizia? Cioè è più un effetto annuncio o in quel caso invece qualcosa dovranno fare la praticabilità di contromosse in materia economica e invece è più reale? Io credo che il sentiero delle riforme in campo economico sia molto stretto. Il governo punta in parte su questa storia della liberalizzazione del sistema economico, però voglio dire ha una componente di effetto annuncio, è molto una cosa politica ma dal punto di vista degli effetti economici è difficile valutarlo in tempi brevi. Le uniche vere cose che si potrebbero fare mi sembra che abbiano dei punti di parentela forti con la questione giustiziana, cioè sull'incapacità, sull'impossibilità di procedere con riforme vere in tempi stretti. Cioè in realtà che cosa si potrebbe fare? Si dovrebbe procedere effettivamente a un tentativo di riforma fiscale con dei tagli e bisognerebbe affrontare il vero nodo del sistema economico italiano che però è una specie di tabù che è quello del pubblico impiego, cioè che quello che è stato fatto poi negli altri paesi europei con la stretta, dopo la crisi finanziaria, la stretta nei bilanci pubblici ha toccato naturalmente il pubblico impiego. In paesi in cui il pubblico impiego però produce servizi efficienti da noi è pletorico ed è anche molto inefficiente per le ragioni che conosciamo. Mi sembra però che sia molto difficile in questa fase investire un nodo così delicato del sistema italiano anche in termini di consenso con un processo di questo genere. Sulla giustizia poi, secondo me c'è un elemento che va valutato e che poi riguarda secondo me tutta la storia degli ultimi vent'anni. Perché queste riforme non si fanno alla fine? Io credo perché in questi vent'anni noi abbiamo avuto classi dirigenti politiche molto deboli di cui Berlusconi naturalmente Magna Pars è stato poi, voglio dire, essendo stato poi il più forte di tutti questi qui. La verità è che fino al 1992-1993 il sistema degli equilibri tra poteri dello Stato in Italia ha funzionato tra magistratura e politica con la magistratura che riconosceva in qualche modo il primato alla politica. In questi ultimi vent'anni questa cosa è saltata. La mia sensazione è che sia saltata innanzitutto perché classi dirigenti politiche molto fragili non sono state capaci di esercitare una specie di potere di sintesi sulla società. In questo potere di sintesi c'era naturalmente la necessità di dialogare con la magistratura in un modo diverso probabilmente da quello che si è fatto. Naturalmente quando c'è un vuoto di potere da una parte è inevitabile che quel vuoto venga riempito da qualcun altro. Poi io ho la sensazione anche che questo sia diventato una specie di alibi in parte. Gli alibi per la politica? Beh sì, perché c'è sempre la questione della magistratura, ma così come è diventato un alibi persino il conflitto di interessi da un certo momento in poi dall'altra parte. sul conflitto di interessi si poteva intervenire, alla fine non si è fatto e poi questa cosa è servita a dire beh però Berlusconi c'ha le televisioni. Io credo che tutto questo faccia parte di un fenomeno generale del quale siamo stati testimoni in questi vent'anni. Non si esce secondo me da questa un pass senza una classe dirigente politica più forte, più consapevole della necessità di esercitare appunto leadership che significa sintesi di questo. Neanche se Berlusconi si facesse da parte pertanto. Beh naturalmente oggi Berlusconi rappresenta un problema da questo punto di vista perché come dicevano tutti loro prima alla fine che cosa succede? Che oggi sicuramente non puoi procedere sulla riforma della giustizia perché ti verrà detto ecco lo stai facendo perché c'è un problema ma questo è inevitabile. Dunque è chiaro che Berlusconi in questo momento è un ostacolo in questa direzione. Naturalmente poi niente gli impedisce di tentare un colpo di mano. Io non credo che gli sarà facile. Io no, volevo infatti sentire proprio Facci se condivide quest'analisi di debolezza insomma della politica. Mi veniva in mente anche perché oggi i giornali sono pieni di editoriali sulla vicenda del Pio Albergo Tribulzio anche libero naturalmente anzi in prima fila e fa un po' impressione vedere che insomma in un certo senso poco è cambiato che comunque si ripropone una situazione. La storia è diversa sicuramente a dei punti di differenza però comunque quello era stato il punto di partenza di Tangentopoli quindi il richiamo così simbolico a quegli anni c'è e nello stesso e si riparla di immunità ecco volevo... E poi no siccome ho parlato per primo durante questa trasmissione parlando del fatto che venga visto come possa essere visto come ritorsione ogni cosa che Berlusconi faccia in tema di giustizia chiarisco che però questo è senz'altro un punto debole però Berlusconi al tempo stesso forse per la stessa ragione io reputo almeno ed è l'unica ragione confesso personalmente per cui per cui io tifo per lui quando si muove a proposito di giustizia indipendentemente dai cavoli suoi penso anche che sia l'unico che possa riuscire a fare certe cose a fare certe riforme perché paradossalmente oggi io credo che solamente non considerando una parte sociale la magistratura solamente praticamente scatenando l'inferno probabilmente con manifestazioni e chissà che altro da parte dell'opposizione e dei filo magistrati solamente facendo insomma una vera rottura con tutto ciò che rotte attorno al potere forte che la magistratura rappresenta secondo me è possibile fare una riforma seria che incida della giustizia e chi la può fare solo un rivoluzionario tra virgolette che abbia anche interessi personali per farlo perché alla fine questa è la politica e questo Berlusconi altri che le facciano con moderazioni e cercando le ampie convergenze all'interno di un quadro più ampio non ci riescono non ci si riesce perché la magistratura non te lo permette perché c'è un blocco politico culturale che non ti permette di farlo nel 92 93 anzi nel 93 94 per rispondere alla domanda di prima non ti permetteva di farlo con veri e propri editti che proprio mediaticamente bloccavano dei legittimi provvedimenti di legge decreto conso del marzo 93 decreto biondi del luglio barra agosto 94 successivamente altri ministri della giustizia sono stati impallinati un governo che abbia l'ambizione di non di riformare la giustizia ma essenzialmente di vivere di non affronta gli nodi fondamentali che notoriamente fanno cadere i governi e i ministri della giustizia ma non lo farà neanche questo faccio prego ma non lo farà neanche questo cioè io mi auguro come dici tu ma di che di che stiamo parlando non l'ha mai fatto non vedo perché debba farlo adesso non l'ha fatto in tra cui stiamo al terzo anno di questa legislatura non l'abbia mai fatto qual è la forza rivoluzionaria e dirompente di questo governo in quale ambito tu la vedi non lo so adesso per carità è l'ospicio di tutti ma oltretutto oltretutto è stato ricordato da te che qui dentro ci sono ministri in questo governo non lo so in che ambito rivoluzionario vedo questo governo l'ambito rivoluzionario di Berlusconi non lo vedo tanto più adesso che come rivoluzionario c'è anche qualche problemino quindi io la vedo veramente per carità è un auspicio ma è proprio nelle condizioni peggiori oltretutto non è questione adesso prima si diceva di fini ma la lega ti dico vedrai che la lega intercettazione e immunità ma mai le farà passare mai ma lei che è quella del capio a lei che è quella del 93 che mandò a casa graxi facendogli quel giochetto ma di che stiamo parlando dove sta la forza rivoluzionario stiamo parlando della ci sono due convergenze col pd come diceva bordin prima stiamo parlando della mia opinione che precede la tua che potrai tranquillamente esprimere io non ho detto che il governo farà questo dei rivoluzionari io ho detto che Berlusconi è il punto debole di qualsiasi intervento sulla giustizia ma paradossalmente è l'unico che secondo me può fare una riforma profonda non ho espresso pronostici sul fatto che ci riesca anzi pensavo di essere stato chiaro su questo c'è la storia però sono vent'anni che stiamo parlando di questo lui che ne sta parlando cioè quando Berlusconi parlava di questo c'era Mitterrand c'era Clinton ma di che stiamo parlando di questo è un'era geologica capisci dove lui c'è ancora Mitterrand è morto Clinton fa un'altra cosa lui sta dicendo una cosa perché lui dice secondo me l'unico che potrebbe però però non crede che lo faccia se ho ben capito il pensiero di faccia aspetta facciamo finire facci e poi dopo torniamo all'anna perché abbiamo interrotto il tema forse non sono capace di essere sufficientemente chiaro concludo velocemente andando un attimo sulla faccenda del più albergo tribunzio anche qua mi permetto un commentino quasi sarcastico perché per esempio una delle prime delle questioni principali su cui si sono concentrati soprattutto i quotidiani centrodestra il fatto che la compagna del candidato milanese a sindaco Giuliano Pisapia viva in una casa del più albergo tribunzio allora la prima volta che venne fuori questa cosa la scrisse io in un libro intervista a Paolo Pillitteri nel 1994 in marzo venne fuori e fu ripresa anche da alcuni giornali poi la riscrissi in un libro del 1997 non successe assolutamente niente quindi ammetti che c'è una strumentalità perché oggi Pisapia paradossalmente io penso no scusate avete finito di interpretarmi no 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 lasciamo finire facci dai finisco un attimo poi vi cedo la parola ai tempi voglio dire vennero fuori e scrissi io in questi libri ben altri affitti anche se non erano specificamente tutti legati al PAT l'ecocanone di Pietro il procuratore generale di Milano Giulio Cattelani abitava in una casa del fondo pensioni Cariplo non successe niente e quindi sì certo aumento la strumentalità ma non la strumentalità della sinistra scusate del centrodestra sul centro sinistra la strumentalità generale secondo me della politica e dei giornali dell'editoria di cercare a di costi qualcosa che faccia ancora vendere perché perché sul serio perché se andiamo a vedere alla fine non è più affittopoli a parte qualche caso perché secondo me il caso per esempio di Carla Fracci è abbastanza scandaloso dal punto di vista proprio morale perché poi la signora si atteggia in un certo modo ecco ma tutto sommato è vero che queste case non questi affitti sono inferiori ai tassi di mercato ma non sono questi questi proprio questi regali che c'erano ai tempi proprio di affittopoli negli anni 90 per cui insomma sì c'è non è che siamo già in campagna elettorale siamo eternamente in campagna elettorale ok torniamo all'anna all'anna perché in realtà l'anna non ha veramente risposto alla domanda cioè parlavamo naturalmente della anche della debolezza di future libertà però la domanda era anche Berlusconi dice adesso si può fare perché era un ostacolo in effetti numericamente rispondere a questa domanda rispondere anche alla questione che alleggia nel tutto quello che stiamo dicendo stamattina cioè quello che dice Facci secondo me è sbagliato perché in realtà le riforme che in questo paese si parli di riforme è un discorso vecchio non vent'anni molti di più ma è Berlusconi che impedisce la realizzazione delle riforme questo è un dato storico cioè io ricordo che c'è stata una bicamerale in questo paese la bicamerale preseduta da D'Alema dove c'era la riforma anche della giustizia e storicamente è stato Berlusconi a far saltare il tavolo delle bicamerali e avviare un processo di politica giocato solo sulla propaganda sin da allora però lì forse anche i magistrati Bordin ce lo può dire come è saltata la bicamerale però fatemi concludere il dato è che Berlusconi dal 98 in poi ha cominciato e ci sono anche dei momenti simbolici eccetera una politica giocata solo sulla mobilitazione populistica e sulla propaganda ricordo che proprio nel 98 il periodo in cui saltava la bicamerale Gianfranco Fini faceva l'assemblea a Verona dove c'era un discorso di partito post ideologico c'era anche un discorso sulla legge elettorale Berlusconi si presentò in quel consesso portando il libro nero del comunismo rilanciando la politica italiana come anticomunismo quando il comunismo non c'era più da quasi 20 anni cioè ricordiamo queste cose perché poi da allora la politica è soltanto questa mobilitazione oggi i comunisti domani i magistrati e questo è quello che fa Berlusconi più che realizzare oggettivamente le riforme sulla legge elettorale che dicevo prima sul fatto del porcellum eccetera vorrei ricordare che Gianfranco Fini ha appoggiato ben due o tre referendum per l'abolizione addirittura quando c'era il mattarello della quota proporzionale era per l'uninominale secco addirittura quindi queste questioni poi si arriva al dato di Sartori si arriva perché c'è una legge elettorale che costruisce certe condizioni altro discorso le riforme per fare le riforme una maggioranza deve avere un consenso vasto e diffuso nel paese che la manifestazione delle donne di domenica che la manifestazione del pala sharp che la nascita di futuro e libertà mettono in discussione il paese reale ha un distacco nei confronti di Berlusconi che è gigantesco, crescente a quello è il paese reale? eh appunto non credi che ci siano sempre stati il paese reale è il pala sharp? sicuramente è molto più il pala sharp che 4, 5, 10 deputati comprati in Parlamento cominciamo a pensare queste cose c'è anche altro come spesso accade in questo paese poi i risultati elettorali sorprendono tutti gli osservatori che dicono Berlusconi è fortissimo Berlusconi è forte perché è una minoranza che con un gioco elettorale diventa maggioranza andiamo a cambiare la legge elettorale poi vediamo ragazzi però Fini ha votato quella legge elettorale Casini che oggi dice che è la prima cosa da cambiare non solo l'ha votata, l'ha promossa quella legge elettorale voleva il proporzionale, voleva il ritorno al proporzionale poi probabilmente provò a mettere le preferenze ma insomma lui l'ha innescato però tutti sanno che l'ha porcata il porcelo tutti sanno che è stato un punto di elezione se uno le vota le provvedimenti poi dopo può dire mi sono completamente sbagliato ho fatto una fesseria totale ma non dire la legge elettorale è il male assurdo questa legge elettorale è il male assurdo l'ultimo ritocco ragazzi il proporzionale tipo prima repubblica è una cosa che io credo che Casini pensi a quel tipo di cosa l'unidominale secco che piace radicale piaceva anche a Gianfrancofini è un'altra cosa il porcellumo non è nell'uno o nell'altro è una schifezza ma qualcuno ha un'altra cosa però il punto di debolezza forse anche di questo poi di tutta la vicenda di Flì nasce anche come pure è un'obiezione che si può fare anche a Casini come stava dicendo prima De Marchis ma c'è anche il fatto che dire la giustizia ma il pensiero di Berlusconi sulla giustizia è lo stesso in effetti su questo è di una coerenza poi non l'ha realizzato però quali fossero i suoi progetti è chiaro dal 94 e Fini diciamo fino a lo scorso autunno anzi fino ad aprile diciamo così non ha preso le distanze neanche sulla giustizia c'è quest'elemento qui che a un certo punto ha dato l'idea di un problema personale anziché di un problema politico questo non è vero perché rileggersi attentamente alle cronache noterà sempre una differenza anche nell'ammettere la riforma della giustizia perché tutti vogliamo la riforma della giustizia ma nella particolare accezione che sempre Berlusconi ha dato ha dato però era caratterizzante di Berlusconi non è vero che tutti vogliamo la riforma della giustizia non è vero? no, secondo me no c'è una larga parte del paese che conta che non la vuole proprio c'è una larga parte che non vuole la separazione ma c'è comunque che c'è bisogno di una maggioranza di un governo autorevole forte che possa farla perché quando parlavamo delle riforme le riforme toccano sempre una parte che non è d'accordo e sono in qualche modo impopolari necessariamente ma per farlo occorre costruire una maggioranza un'autorevolezza di governo che questo governo questa maggioranza non ha perché uno ha chiesto chiede le dimissioni di Berlusconi perché se Berlusconi si fa da parte probabilmente si potrebbe costruire una maggioranza diversa che può fare tutte le riforme compresa quella della giustizia Posso chiedere a Marco Conti se però le dimissioni di Berlusconi sono un orizzonte realistico Non penso proprio non penso proprio che sia così peraltro anche perché Berlusconi cioè dimissioni nel senso come atto diciamo di volontà personale Berlusconi non lo farà mai prima di tutto perché contraddice quello che è l'elemento fondamentale per lui fondamentale e centrale della legge elettorale che poi lui sostiene di essere stato eletto in maniera diciamo molto discutibile Costituzione alla mano però lui è quello che dice quindi il autorizzare il passaggio indietro con un altro eccetera significa venir meno a questo principio a meno che Berlusconi non decida ma anche questo l'ha avuto abbastanza di ritirarsi a vita privata e allora sgombra il campo a qualcun altro quindi è sempre il passaggio elettorale poi che per carità è vero che ci saranno piazze piene sicuramente il palasciar però adesso poi ci sono elezioni che sono state fatte nel 2008 che sono state fatte anche tra questi due anni mi riferisco alle amministrative e il PDL e Berlusconi le ha sempre vinte ora i sondaggi lo danno in calo però comunque lo danno ben forte sicuramente più forte del centrosinistra che dovrebbe essere rappresentare l'opposizione e in una situazione di sfacelo mi sembra che i sondaggi non mi sembra che i sondaggi vabbè adesso lascia stare la scomposizione di partiti di partiti comunque sia ecco c'è una grossissima fetta di convoto gli ultimi sondaggi sia che si vada in un'alleanza democratica contro Berlusconi sia che si vada a tre soggetti lasciano prevedere molte sorprese quindi ragazzi scusa dico una cosa soltanto se un partito come il vostro nascente e comunque si colloca fuori si è collocato all'opposizione secondo me le opposizioni chiedono le elezioni non chiedono se non solo un gruppo di parlamentari ribadisco ma una parte importante della società italiana della cultura italiana del dibattito italiano è stata tirata fuori dal PDL qualcosa significa e qualcosa significa anche nei risultati cioè voglio dire che le questioni che Fini ha sollevato nella famosa direzione nazionale sono tutte poi venute come dire al cuore del dibattito degli ultimi giorni il dibattito sui decreti attuativi ieri il dibattito sull'unità nazionale sembrano cose arrivate così ma Fini l'aveva detta esplicitamente in quella riunione che poi ha significato la rottura all'interno del PDL sì per carità il dibattito che vi avevo da fine è sicuramente interessante ho l'impressione che dopo un lungo periodo ne soffra un po' del e ne soffra anche il partito in quanto movimento in quanto per dire che dovrebbe raccogliere le forze migliori di un centro-destra soffra di questa di questa poltrona che lui continua a occupare questo ne soffra perché ne fa più sembrare sempre più specie la compravendita il fatto che si spostano deputati qua e là è come un'operazione di palazzo che parte appunto è partita dalla terza carica dello Stato è giusto è ovvio che può essere così ci sono migliaia di persone al giorno che via internet o direttamente si stanno iscrivendo a Futura Libertà sì ho capito io ne parlo ma io sono d'accordo ne sono certo il problema ne denunciamo qualche limite Vendola non è il Parlamento ma Vendola rappresenta una parte importante della politica di questo paese i radicali per anni non sono stati in Parlamento ma sono perché dobbiamo ridurre tutto a un gioco parlamentare di un Parlamento delegittimato che non funziona il Parlamento è delegittimato e l'Ite sta a guida a questo Parlamento delegittimato e perché Berlusconi non si dimette che il problema è quello il problema è quello allora perché Berlusconi di fronte a questa crisi di fronte alle vicende di fronte all'immagine internazionalità non si dimette quello è il dato la forza della capacità del che è delegittimato il Parlamento scusate ho perso un passaggio perché è delegittimato il Parlamento eh lo ha detto sto dicendo che non è rappresentativo dello Stato Reale del Paese perché non basta essere votati come mai lo sto dicendo da prima su questo però vi interrompo per la pubblicità basta dirlo subito dopo la pubblicità 8 e 45 bentornati a Omnibus Bordin si parla di si parla di allargamento ho visto un trasalimento distratto non pensavo no perché parlavamo comunque giriamo intorno al tema dell'allargamento della maggioranza e alla fine anche eh è diciamo il contrappeso come si può dire alla vicenda di la conseguenza della vicenda di Flia anche no Berlusconi ne fa eh lo strumento per dire allora loro stanno così quindi noi invece abbiamo capacità di attrarre persone i delusi da future libertà eh i delusi di qui c'è un corteggiamento al partito nei confronti perfino del partito democratico si è parlato di eh un corteggiamento ai radicali a Marco Pannella in particolare ma al di là di questo abbiamo sentito qual è la posizione di Pannella e il fatto del tema della giustizia eccetera però al di là di questo il tema dell'allargamento della maggioranza è qualcosa di come dire sufficiente per far sopravvivere ehm il governo ma questo questo non lo so sui radicali ci attestiamo a quello che si è appena detto quindi appunto le posizioni sono chiare non c'è nessun nessun accordo nessun a parte le questioni sulle qualità sempre radicali sono più sintonici con le richieste di riforma che le richieste di conservazione quindi sulla giustizia sono più vicini forse al centrodestra in alcuni punti almeno ma questo non ci volevano i colloqui Pannella Berlusconi per definirlo insomma però un tentativo c'è stato da parte di Berlusconi sì ma senza dubbio c'è stato anche questo da parte più che di Berlusconi di alcuni suoi parlamentari nel gioco parlamentare che un po' qui è stato evocato ma non non si è poi alla fine si è parlato tanto dai radicali ma in fondo il governo si è salvato grazie ad alcuni parlamentari dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico i radicali i poveretti hanno votato compatti senza alcun problema quindi non è tanto questo il problema rispetto all'allargamento della maggioranza io mi permetterei di dire un'altra cosa allora di che parliamo? della possibilità che la situazione precipiti verso elezioni anticipate rapidamente oppure che si trovi un modo per dare continuità alla legislatura se precipita in elezioni anticipate prima di subito come è pur possibile entro il 10 aprile giusto? perché 10, 15, 20 aprile perché poi non c'è tempo non è che poi passata l'estate il problema non possa riproporsi immediatamente quindi non è qui tutti però continuano a dire ma questa legge elettorale è un infamio a parte il fatto che l'hanno votata tra pochissime eccezioni i soliti radicali e pochi altri perché giustamente ci sono le responsabilità dell'attuale presidente della Camera e dell'attuale leader del terzo polo o partito della nazione che è di Zionia ma ci siamo scordati che in fondo Veltroni ci ha costruito una campagna elettorale su quella legge quindi però non l'ha votata lui l'ha votata però l'ha fatta sua addirittura ancora oggi ti ricorderai che le primarie in cui fu eletto Prodi ebbero anche quel successo come reazione a quella legge reazione diciamo tra virgolette popolo del centro-sinistra a quella legge a Forcero sia pure però voglio dire anche qui c'è da notare a me per esempio ha stupito in una delle credo nel primo articolo sul Corriere della Sera un intervista non mi ricordo bene in cui Veltroni ha operato la sua run 3 in politica è una cosa che diceva il voto che si è concentrato su di me ma come su di te è grosso modo quello che prima mi pare Conti rimproverava Berlusconi che crede di essere stato eletto direttamente quindi vogliamo dire che questa legge elettorale poi alla fine segnerà anche il prossimo Parlamento e diremo poi che sarà delegittimato anche quello perché i cittadini non hanno potuto esprimere i parlamentari che sono stati nominati ma soprattutto anche per un'altra cosa c'è in questa legge elettorale un premio di maggioranza che non ha paralleli in nessun altro paese di democrazia occidentale come noi lo vediamo questa è la verità poi è una cosa un po' noiosa da politologi però mi spiego con un esempio se davvero si arriva a un'elezione con tre poli non è detto ma ammesso che ci si arrivi è ampiamente probabile che quello che vince prende una percentuale che va dal 30 al 28 giusto allora si è mai visto in qualsiasi sistema del primo secondo terzo e quarto mondo un partito che prende il 28 per cento più un premio di maggioranza del 25 non ha alcun senso questa è altra cosa sulla quale forse la politica farebbe bene a riflettere allora non è senza senso secondo me il fatto ed è un brutto segnale che sul tema della riforma del sistema elettorale che palesemente tutti dicono va a riformare a parte Calderoli che però dice Modesti a parte ho fatto una porcata e a parte Berlusconi quindi insomma ecco però voglio dire da questo punto di vista è possibile che nessuno abbia una proposta perché poi tutti oscillano fanno discorsi strani complicati questo non va bene ma non lo vogliono cambiare è appunto anche perché nominano loro i parlamentari la legge truffa per molto meno prendono premi di maggioranza favolosi perché dovrebbero cambiarla anche questo va detto insomma la legge truffa per molto meno si definisce la cosiddetta legge truffa dava il premio di maggioranza a chi prendeva il 51 però se va bene è chiaro alla coalizione ecco ma adesso appunto abbiamo preso in esame l'eventualità delle elezioni ma siccome il tempo almeno le elezioni anticipate del maggio quando potrebbe essere siccome per l'appunto il tempo invece stringe ci sono e quindi se non si arriva al 15 aprile se si supera il 15 aprile probabilmente si deve votare dopo l'estate quindi ricomincia tutto si dilatano i tempi prendere invece in considerazione lo scenario non elettorale cioè lo scenario senza elezioni che è quello che al quale mi sembra vadano le preferenze della maggior parte delle forze politiche a parte Futura Libertà prima l'anno ci diceva bisogna votare bisogna votare il PD lo dice ma in realtà così convinto non è insomma che spazio c'è però c'è un'altra ipotesi si può anche non andare a votare ma aprire un processo costituente vero se ne parla da decenni ma questo presuppone che il Berlusconi si faccia perché i discorsi di stamattina fanno capire che non se ne esce legge elettorale riforme eccetera allora o avviamo un vero processo costituente e questo secondo me è il messaggio positivo di quello che ha detto a suo tempo Massimo D'Alema al di là del fatto se si fa un'alleanza prima dopo eccetera ma arrivare a un processo costituente ricostruire ridisegnare insieme l'architettura istituzionale di questo paese che diventi una democrazia efficiente e efficace che possa produrre politica e fare le riforme se non si fa questo staremo ancora un anno due anni tre anni a fare questo intanto l'Italia perde colpi esce dal gioco internazionale e sta sempre peggio questo è il dato fa impressione un finiano evocare D'Alema con questa convinzione D'Alema che chiede le elezioni almeno adesso ma tutte queste cose hanno come presupposto che Berlusconi faccia questo famoso passo indietro che non ha nessuna intenzione di fare a quanto mi pare avete detto tutti quanti però così lui ha la responsabilità di bloccare la politica in Italia ecco ma come si si può incancreviare perché effettivamente ha ragione Luciano da quello anche che abbiamo detto noi e l'abbiamo detto noi diciamo che potremmo anche fare dei voli pindarici la situazione sembra ferma da quello che ha detto Facci fin dall'inizio a quello che abbiamo detto tutti quanti noi qua cioè la situazione sembra immobile una riforma della giustizia che Berlusconi paradossalmente dice Facci è il punto più debole per farla però è anche l'unico che la può immaginare disegnare eccetera e alla legge elettorale che non si cambierà mai alla riforma dell'economia alla liberalizzazione del mercato al pubblico impiego che non si cambierà mai quindi questo governo può avere anche 330 voti ma se poi non fa niente può voglio dire il problema delle elezioni magari non si riporrà nell'estate ma si può riproporre in autunno ecco io vorrei chiedere a Marco Ferrante se un elemento per sbloccare questa situazione può arrivare dall'economia e come dicono diversi esponenti sia del mondo dell'economia sia anche della politica del Partito Democratico eccetera se effettivamente i vincoli di Bruxelles il fatto che ci possa essere una accelerazione nella richiesta di rientro dal debito se tutto questo può costituire un fattore poi che crea un qualche sommovimento nel governo se può creare uno shock interno uno shock interno qui ma questo è difficile in teoria in teoria no nel senso che se si diciamo se bisognasse stringere e fare una manovra ecco per dire una manovra è ovvio che una maggioranza in queste condizioni troverebbe probabilmente in in una cosa di questo genere una ragione per stare insieme no è l'Europa che ce lo chiede dobbiamo salvare il paese siamo in un momento di difficoltà rischiamo il default non si direbbe mai una cosa di questo genere però è ovvio che questo che questo genere di come possiamo dire di sensibilità esiste cioè noi siamo comunque alle prese con le code di una di una crisi globale che è stata la più la più grave crisi nel in 80 anni di storia dell'occidente quindi stiamo parlando di una di una cosa molto seria molto molto cospicua e di cui cominciamo a sentire anche gli effetti nell'economia reale quindi da questo punto di vista questo potrebbe essere persino un un collante diverso invece capire che cosa succede che cosa potrebbe succedere se lo shock arrivasse da fuori cioè dall'economia reale però francamente mi sembra che tutte queste cose qui siano molto difficili da valutare a me sembra che la situazione sia abbastanza schematica molto confusa ma diciamo schematizzabile in questo modo noi abbiamo opinioni pubbliche in sommovimento i sondaggi con gli indecisi al 40% ci danno l'idea di che cosa no di che cos'è spiegano perché non vogliono andare a votare beh c'è anche una componente di questo genere dopodiché c'hai un presidente del consiglio molto determinato una maggioranza che al momento compatta ma dove comunque c'è gente che si guarda intorno e cerca di capire cerca di valutare le varie opzioni e dopodiché ci sono opposizioni molto vaghe a me pare che l'atteggiamento di tutte le opposizioni in questa fase qui sia molto incerto molto indeciso la questione della leadership è un problema ma non è l'unico e proprio come possiamo dire è un atteggiamento psicologico che in questo momento finisce potrebbe finire con il rafforzare Berlusconi naturalmente poi c'è tutta la la questione giudiziaria che ovviamente non sappiamo che tipo di effetto continuerà a produrre sull'obbligo che però avrà dei tempi lunghi avrà dei tempi lunghi però voglio dire sarà una cosa che continuerà a accompagnarci per i prossimi mesi bisogna capire che tipo di ma per tornare a restare soltanto approfondire un po' di più la questione del contesto economico questo non potrebbe invece portare a un protagonismo comunque a un ruolo più importante per Tremonti e quindi a un cambio di questo tipo e che partita sta giocando Tremonti? Allora io penso che bisogna dire una cosa su Tremonti Tremonti è sicuramente dei leader che si sono affacciati sulla scena della politica negli ultimi anni l'unico che è stato capace di costruire una vera dimensione di carnalità politica e anche è stato capace di mettere in piedi una trama un sistema di relazioni che ha a che fare col potere col potere diciamo quello vero lui ha una visione come possiamo dire drammatica di questa cosa qui ora ciò premesso il punto è capire quali sono i margini per Tremonti per diventare come possiamo dire compiutamente leader io credo che lui pensi che non possa diventare diciamo il capo di un governo senza un passaggio elettorale no cioè non vuole essere non credo che voglia fare il Dini del 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 2011 del 2012 quel che sia e altra questione e invece capire quanto oggi pesa realmente nella compaggia di governo a me sembra che lui pesi molto mi sembra che il suo ruolo sia decisivo è l'uomo che ha tenuto i conti in ordine è l'uomo in grado di di tenere come possiamo dire i ministri in una loro come possiamo dire regola contabile è l'uomo che oggi rappresenta l'Italia in Europa quindi la forza di Tremonti la personalità di Tremonti in questa fase è molto spiccata poi bisogna capire in che modo si può tradurre politicamente sul piano del consenso perché questo è molto difficile valutarlo e anche capire volevo chiedere una cosa proprio a Conti noi andiamo adesso dei prossimi appuntamenti internazionali gli unici che Berlusconi ha in agenda sono il 4 marzo il vertice del PPA a Helsinki che prepara i due vertici europei quello dell'11 e quello del 23 marzo sono vertici importanti perché sono vertici dove si rivedranno probabilmente il fatto di stabilità mi incuriosisce però in tutto questo dibattito che credo che ci sia proprio una differenza di prospettiva quasi come se diciamo tra una persona che ci vede bene e un mio per il fatto che a sinistra ma non solo si continua a dire adesso c'è la manovra adesso c'è la manovra correttiva adesso dobbiamo farla perché i conti ci chiedono di vire la sinistra la pensa al contrario di Marco Ferrante loro dicono se c'è la manovra allora no no ma si dice che ci sarà la manovra e di conseguenza con impatti politici Tremonti che prende spazio sopravvento l'ultima conferenza stampa che sembrava diciamo una conferenza stampa paritaria tra Berlusconi e Tremonti io credo che ci sia un dato puramente anche da calendario cioè qui abbiamo un Berlusconi che ragiona veramente day by day nel senso che parlare cioè quando si parla di manovra di correzione di rientro dal debito stiamo parlando di una cosa di un patto di stabilità i cui effetti e te lo ripetono Tremonti l'ha fatto in conferenza stampa ad un collega del Fogli sa che lei quando è 2015 cioè in effetti le modifiche al patto cominceranno ammesso poi ancora non si è capito quali saranno ma entreranno dal dal 2015 invece qui abbiamo un governo che cioè il problema si arriva se finisce il 2011 non è il 2015 si arriva aprile quindi di conseguenza tutto ciò che si pensa che abbia impatto non ce l'avrà perché non se lo pone proprio questo governo il problema di questo governo e anche questa legislatura ammesso che Berlusconi la finisca nel 2013 cioè alla scadenza ma non se lo porrà per niente il problema di creare che ne so un avanzo primario per dire siccome noi abbiamo quel discostamento del 60% tra il debito attuale italiano che è sul 120 e il 60% che dovrebbe essere il debito a regime di tutti i paesi ma io non se ne preoccupa minimamente non dico da qui aprile che dice vabbè aprile è tra due mesi ma anche da qui a un anno e mezzo quindi non ci sarà nessuna manovra correttiva di quelle che il centrosinistra pensa su quello però c'hai un problema che non puoi ponderare perché in realtà è una variabile cioè bisogna capire poi come i mercati tratteranno il debito pubblico italiano quello può ma il debito pubblico no no quello è una cosa per carità poi ci può essere la grande speculazione alla Soros che ci fu non è difficile non è soltanto problema di speculazione che se a un certo punto la situazione si dovesse modificare è ovvio che se la situazione del bilancio pubblico si dovesse peggiorare è ovvio che tu dovresti intervenire su quella cosa io ti dico ma già sei capito già la conferenza stampa ho capito il tuo punto di vista io dico ma questo ma guarda ti dico non è che è una cosa che effettivamente condivido perché conferma soltanto che il nostro non tanto questo governo ma proprio il paese è un governo di vecchi e di persone garantite che vogliono conservare le proprie garanzie per cui del futuro di quello che succederà non da qui al 2025 ma da qui al 2015 se ne fottono questa è la realtà è un paese di vecchi governato da vecchi e quindi di conseguenza di quello che è il futuro se ne fottono perché quando per carità in una conferenza stampa un ministro ti sottolinea ma guardi che il 2015 spostandoli come in un'asse siderale avanti che sta il 2015 eccolo eccolo allora per le nuove generazioni il 2015 è un batter di ciglia nel senso di quelli che stanno arrivando allora se quella roba lì è un problema che non mi riguarda perché chissà quando è ti dà la dimensione di come si ragiona e che quindi ma questo per dire che effetti stravolgenti di manovrone di cose è di riformone di pubblico impiego questo governo non se le porrà non si sono opposti anche quelli di centrosinistra per la verità no ma su questo sono d'accordo questo è il paese questa è la classe dirigente questo è un paese perché per carità poi noi ancora diamo per nuovo anche all'interno del centrodestra leader che ormai ci sono no ci sono invecchiati nella speranza di fare l'alternativa a Berlusconi per non parlare del centrosinistra Tremonti insomma sembra comunque no parlare del centrosinistra invece ne parliamo De Marchis però ha ragione lui e Tremonti in quella conferenza stampa sembrava diciamo un ex equo che ci fossero due primi ministri sembrava il premio questo è cominciato già nel già è una cosa che è cominciata sin dall'inizio della legislatura e mi sembra una cosa però che Berlusconi ormai occupato a consolidare la maggioranza dei 330 la maggioranza del San Bitter è perché sono gli unici italiani che credono che lì si bevesse fosse una festicciola diciamo tra amici gli unici perché lì ad Arcore la maggioranza è del San Bitter cioè gli unici perché se noi vediamo i giornali di centrodestra che ovviamente fanno una loro campagna diciamo questa cosa non la nascondono quando io metto la foto divendola nudo voglio mandare un messaggio anche i leader del centro-sinistra però hanno pubblicato si sono presi le loro libertà però hanno pubblicato le stesse intercettazioni di vendola che beveva il crodino invece del San Bitter se credessero che lì dentro si faceva una festicciola con le pizzette e la Coca Cola quindi noi abbiamo quindi anche da quello che stiamo ridiscendo adesso noi abbiamo quei 330 che conservano solo la loro maggioranza e Berlusconi si occupa solo di quello mentre c'è un Tremonti che si occupa comunque di tenere i conti a posto di andare in Europa quello era impressionante voglio dire sulla leadership futura quella tipo di conferenza stampa c'è un signore che si occupa di rimanere al suo posto e un altro che comunque invece si occupa di gestire una cosa che si capisce il centro-sinistra sta sperando in Tremonti ci sono stati un dibattito con Veltroni l'altro giorno invitato alla fondazione di Veltroni ma lo dice un errore poi fra l'altro non è nascosto un errore palese ma il più grande è quello secondo me dire ci va bene tutto tranne Berlusconi cioè quindi un governo Tremonti un governo Maroni il dialogo con la Lega sul federalismo il terzo polo l'alleanza col terzo polo Fini Davendola Fini quindi questo che è un errore secondo me è grande e però secondo me soprattutto è grande dopo il 14 dicembre nel senso che fino al 14 dicembre c'era la speranza di avere un governo di transizione allora l'idea di dare una di avere una massa critica anti-berlusconiana che quindi poteva vincere quella partita del voto di fiducia e poi raccogliere i cocci del berlusconismo e quindi allargarsi è venuta meno quella oggi secondo me non ha senso riproporre la larga la santa alleanza in questo modo cioè diventa poco credibile secondo me è un problema del centrosinistra cioè l'errore più palese che stanno facendo cioè pensare sempre che ci sono delle alchimie che sono migliori diciamo del confronto elettorale di una proposta chiara davanti agli elettori quindi anche il centrosinistra non vuole le elezioni confermi insomma mi pare che comunque oscilli parecchio perché è un Parlamento di nominati ce ne hanno 80 l'EPD ce ne ha 70-80 che perde perché comunque 40-50 quella è in una coalizione nella logica di una coalizione ma no ma deve ridarle alla sinistra no insomma è chiaro che è così il problema che il Parlamento stiamo passando in rassegna tanti fattori e tutti visti uno per uno non rimane che questa strana questa strana stabilità questo protrarsi quindi l'unico no questo facci ho detto grande ottimismo vedo in studio in generale eh sì non so mi sembra che ora si siano un po' convertite le opposizioni nel chiedere il voto anticipato e spero che continuino a chiederlo cioè che non cambino perché non si possono chiedere le elezioni e poi proporre un dialogo alla Lega quasi contemporaneamente secondo me e in cui appunto il messaggio è fate fuori i Berlusconi si fa un altro governo dove c'è chiunque eh anche Calderoli Tremonti Maroni e facciamo questo patto costituente che dura quello che dura e poi dopo ognuno per la sua strada al voto chissà quando cioè sono due messaggi troppo diversi uno dall'altro e che sicuramente tengono in piedi i 315 del di Berlusconi quindi secondo Facci quale può essere un fattore che smuova questo aspetto questa stasi questa questa palude come emerge dal dal dibattito appunto non invidio chi tutti i giorni deve occuparsi di dipingere gli scenari politici proprio perché rispondere a questa domanda è impossibile alla fine siccome tutte le domande convergono sul elezioni sì elezioni no noto che c'è un elemento contraddittorio in più perché a me sembra che alla fine il pallino ce l'abbia comunque tanto per cambiare ancora in mano Berlusconi che sulla base del fatto che i suoi sondaggi gli spieghino che il terzo polo stia andando giù aumenta le il desiderio di insomma di cedere alla tentazione magari di andare al voto da una parte però paradossalmente mentre vanno giù spesso voglio dire i consensi per che riguardano il terzo polo vanno giù anche e in coincidenza al fatto che decresce la forza parlamentare del terzo polo per cui paradossalmente cioè lui da una parte è tentato di cioè ha più numeri per governare dall'altra più ha numeri per governare e più si sentirebbe sicuro di andare a votare quindi insomma è una situazione chiara e cristallina come tutto il resto della discussione che abbiamo fatto la tentazione del voto di Berlusconi ci credo ancora poco perché per carità è vero che il terzo polo scende però ha ancora quella diciamo quella forza per cui per levarli se fosse poi terzo polo e non ammucchiata perché Berlusconi la cosa che più piacerebbe è l'ammucchiata contro cioè tutti contro lui sono le cose che lo appassionano nel caso del terzo polo ha ancora una forza per cui gli può rendere non tanto ovviamente perciutare una vittoria ma comunque la vittoria al Senato e per Berlusconi non è più il 97 da fare un'altra attraversata nel deserto Lanna però questa idea della appunto della Santa Alleanza del tutto tranne Berlusconi crea molti problemi all'interno di Futuro e Libertà è il problema politico io credo che nessuno accarezzi l'Italia della grande alleanza dell'armada Trancaleone i discorsi che abbiamo posto sono diversi io credo che dobbiamo guardare a quello che sta avvenendo nel Maghreb quello che sta avvenendo ovunque abbiamo classi dirigenti che stanno crollando per l'indignazione popolare in Egitto in Tunisia in Algeria anche in Libia ci sono manifestazioni dove si diceva no lì Gheddafi è fortissimo quindi guardiamo sempre all'impatto mediatico e alle immagini alla forza di queste cose un milione di donne in piazza in tutta Italia ma non c'è la democrazia che è andato in tutto il mondo e non erano le donne di sinistra c'era anche Flavia Perina a parlare c'era anche Giulia Buongiorno cioè sono fenomeni che secondo me sono dirompenti e producono effetti al di là del gioco parlamentare Sì ma scusa se ti interrompo ma non hai Berlusconi Berlusconi deve andare un processo davanti ai magistrati questi fatti vanno sui giornali vanno nell'immagine in giro del mondo cioè sono fatti che saranno increscendo quindi non guardiamo soltanto alle alchimie parlamentari ma all'impatto anche etico ed estetico ed immagine che tu che infatti hanno sull'unione pubblica situazioni oggettivamente diverse diciamo per quanto meridionali se cade Gendappi cade anche per lo scuola non è non è nebo barac ragazzi i fatti dell'89 hanno prodotto due anni dopo in Italia tre anni dopo il fatto che è caduta il pentapartito e quel tipo di equilibri sta accadendo qualcosa nel mondo per cui c'è un certo tipo di leadership vecchie ingessate ce la stanno crollando e questo avviene in maniera domino effetto domino quindi guardiamo ne parliamo tra un paio d'anni ragazzi però è un giudizio ebbe pazienza sì ma non c'è la democrazia lì è un po' diverso beh anche in Italia non è che ci sia un altro ci sono dei problemi non è che non c'è la democrazia però anche in Italia abbiamo dei problemi abbiamo dei problemi come dire leggete Sartori Sartori è il massimo politologo al mondo eppure ieri diceva che ci sono dei problemi per carità con tutto il rispetto c'è un problema di rapporti mediatici strani ci sono tante questioni in Italia che vanno di sotto no no purtroppo devo lanciare di nuovo la pubblicità e poi subito dopo cos'è Sartori? rieccoci con il nostro dibattito Massimo Bordin volevo stavi così volevi replicare all'Anna sulla che ha azzardato un paragone tra Berlusconi no la cosa non è poi tanto Berlusconi il fatto è questo in realtà io sono poi alla fine d'accordo con l'Anna sul fatto che tutto ciò che sta succedendo dall'Egitto alla Libia è di grande importanza e non potrà non avere riflessi anche sul mondo occidentale sulla parte settentrionale mediterranea o come no però insomma non è che c'è l'effetto domino questo forse era un po' una forzatura anche perché se no sarebbe un bilancio poco rassicurante per chi ha governato questo paese perché se poi l'effetto domino riguarda l'Egitto la Tunisia la Libia e l'Italia insomma ci colloca definitivamente nella parte meridionale del Mediterraneo dove noi non però non è solo questo a me pare un'altra cosa anche che in realtà il dibattito che stiamo facendo mostra come questo paese e quindi la sua classe politica o forse la classe politica e quindi questo paese non si trova di fronte strade possibili ma vicoli ciechi perché se andiamo a vedere nessuna delle soluzioni che vengono prospettate a uno stato di crisi che tutti riconoscono a Berlusconi all'opposizione ai terzi e ai quarti in realtà tutte queste strade poi per un modo o per un altro non si può che convenire che siano dei vicoli ciechi perché non portano da nessuna parte e allora credo che sia logico chiedersi come un paese in una situazione del genere possa trovare una soluzione e non sono tanto sicuro che questa soluzione non possa venire dall'esterno in fondo pensiamoci un attimo ma l'unica grande riforma che è stata fatta giusto o sbagliate che sia in Italia è stata quella che ci ha agganciato all'area dell'euro poi naturalmente su questo ci può essere un dibattito è stato fatto bene è stato fatto male però quello è un passaggio epocale un momento che ha costretto anche i problemi di bilancio che ci sono oggi sono anche rapportati a quella cosa se no l'atteggiamento italiano era quello che ricordava prima Conti e che si ispira a Oscar Wilde sostanzialmente che diceva in fondo dei posteri che ce ne importa che hanno fatto per noi quindi andiamo avanti e il bilancio in Italia è stato fatto spessissimo così ci sono dei veri professionisti in materia oggi tutto questo non è più possibile ma non per merito di Tremonti perché sei agganciato all'euro perché stai in una realtà che ambirebbe almeno all'unità economica quindi quando parli di un fattore esterno ti riferisci a un vincolo proprio all'Europa a questa cosa che però secondo Marco Ferrante poteva servire invece a come dire a tenere insieme ma secondo me ho capito il discorso che fa Ferrante però secondo me ed è possibile che dentro il centrodestra ci sia chi possa avere l'intelligenza di utilizzare un input anzi più che un input qualcosa di più che arrivare all'Europa per dire bene io sono in grado di farlo mi pare un'ottima cosa questo ci impegna una sfida però non è detto che il centrodestra possa ricompattarsi come peraltro anche il centrosinistra avrebbe difficoltà ognuno degli schieramenti dovrebbe scomporsi rispetto a una situazione del genere ecco ma qualcuno potrebbe trovare il coraggio nel centrodestra lo chiedo a te ma lo chiedo anche a Facci per staccarsi da Berlusconi cioè c'è anche questo tema qui qualcuno che alla fine possa prendere le distanze perché adesso tutti sono compatti però si notava mi pare che lo abbia anche scritto Marco Conti nei giorni scorsi che comunque anche Berlusconi non può contare esattamente sulle stesse persone che vadano a difenderlo cioè che si stia creando ma questo è un po' nella logica delle cose però abbiate pazienza per carità con Don Verzee sta studiando l'ipotesi di campare fino a 120 anni però è inevitabile anche considerare il fatto che già alle prossime elezioni insomma comincia a esserci anche un problema di età ma il problema è il problema giudiziario il problema giudiziario e morale pesa in questa cosa il problema giudiziario non aiuta da questo punto di vista se si somma il problema dell'età l'indubbio problema giudiziario che il rito è immediato ma il processo poi procederà non in tempi brevissimi beh insomma che poi anche nel centrodestra ci sia più duro che pensi al dopo mi pare nella logica delle cose questo non sarà più forte Berlusconi per qualche anno per mutare Berlusconi da leader a fondatore è certo quello è difficile facci che cosa ne pensi della possibilità che ci possa essere qualcuno che prende le distanze in modo più più pubblico più ufficiale più evidente beh se vuol farsi espellere dal PDL non ci sono problemi io ho simpatizzato nella prima fase coi Finiani intesi come una delle tante correnti che all'interno di un partito troppo grande per non averne dovesse rappresentare le molteplici sfaccettature della società italiana di centrodestra e non solo insomma viva le correnti da quel punto di vista e poi abbiamo visto come è finita perché io non è che proprio viva sulla luna è verissimo che Fini è stato cacciato via poi vabbè c'è tutto un altro discorso da fare per cui il futuro e libertà secondo me e non solo secondo me non è che rappresenti un gruppo di persone che la pensa in maniera diversa su determinati temi e quindi ha operato alla fine indirettamente e involontariamente una scissione perché questo sarebbe normale secondo me il futuro e libertà tutto sommato è una riproposizione in piccolo di molti aspetti su molte idee insomma sono ancora trasversali del PDL e questo è il suo grande limite insomma non è che siccome per esempio sulla giustizia la pensavano in maniera diversa da Berlusconi allora si sono distaccati siccome si sono distaccati sulla giustizia dicono cose profondamente diverse da Berlusconi questo secondo me poi naturalmente ci sono sfumature si può dire che questo già diceva quest'altra cosa tutto questo per dire che cosa che non c'è da farsi illusioni Berlusconi non è che Berlusconi è una persona ingenerosa e non pensa a chi verrà dopo di lui Berlusconi proprio non ha la forma mentis di pensare che possa esserci qualcosa dopo di lui quindi da questo punto di vista non c'è una scuola non c'è una non c'è neanche vai a capire dove inizia il limite di chi gli sta vicino oppure chi gli sta vicino deve essere necessariamente così altrimenti non sarebbe vicino a lui insomma però insomma per farla breve paradossalmente dopo 17 anni credo veramente che solo il meccanismo che a me non piace della giustizia siccome sarà per esempio condannato secondo me per concussione per esempio potrebbe appunto toglierlo dalla facoltà di occuparsi dei pubblici uffici però anche qua ci vuole un sacco di tempo e ci vorrà comunque del tempo chissà cosa succede in mezzo e quindi insomma per rispondere compiutamente alla domanda boh sinceramente io nel centro-destra non vedo nessuno vedo Tremonti ma Tremonti paradossalmente ha tutte le carte di regola anche per essere per come la vedo io il leader anche del centro-destra per come concepisco io il centro-sinistra in attesa insomma che si sciolga e concludo il dubbio evidenziato da Bordin l'altra mattina in rassegna stampa quando in sostanza disse che passando dall'ipotesi di leadership di Vendola a quella insomma di candidata premier di Rosi Bindi ma persone normali no? hai detto così persone normali sì più o meno credo che la citazione sia resterale va bene no invece vorrevo chiedere a Marco Conti l'ultimo diciamo attore che non abbiamo esaminato nel corso di questo dibattito e cioè la Lega perché naturalmente per le contromosse di Berlusconi che poi era anche il titolo che abbiamo scelto per la puntata di oggi è fondamentale che queste contromosse siano appoggiate dalla Lega perché lì veramente non è questione e per adesso la lealtà c'è stata tutto sommato anche questa vicenda della Unità d'Italia di brontolare di dire di non votare in Consiglio dei Ministri per l'istituzione della festa dell'Unità d'Italia sembra una cosa che sta un po' lì tutto sommato una cosa testimoniale che la Lega deve al suo elettorato però insomma ma ormai diciamo è chiaro che l'alternativa a Berlusconi si gioca si è visto nel corso degli ultimi 10-15 anni fuori dal PDL perché Berlusconi non ammette nulla all'interno non ammette nessuna leadership e quando se n'è palesata una un po' più forte delle altre c'è una infinità di casi che potrei ricordare ha sempre trovato il modo per tendere qualche trappolone per ridimensionarlo la Lega ha rappresentato e rappresenta al nord un'alternativa effettivamente al PDL tanto è vero che ne ha eroso voti diciamo scriviamo che se dovesse esserci nuove consultazioni ne prenderebbe altri di questo a Berlusconi non gli è mai interessato nulla cioè il fatto lui di avere in Parlamento diciamo lupi piuttosto che che costa adesso con il rispetto e il rapporto che ha buono con tutti e due per lui è indifferente è cota scusa parla o cota o lupi c'è cota della Lega o lupi quindi per lui è indifferente non interessa assolutamente nulla la Lega ovvio che in questa fase e di molti leader della Lega hanno un duplice problema il dopo Berlusconi e un po' anche il dopo Bossi questo è evidente perché i due Berlusconi e Bossi si tengono in una maniera incredibile diciamo devo dire che oltre che per un dato politico anche per un dato umano tra i due quindi diciamo la forza di Berlusconi quello su cui ha fatto leva nell'ultime settimane col caso Rubin nei confronti di Bossi è il lato umano che lo stesso Bossi per quelle vicende che ha avuto lui precedentemente diciamo ha scoperto una sensibilità maggiore però ovviamente all'interno della Lega questo problema se lo pongono anche perché è il partito oltretutto quello che si dice sempre è radicato fatto di amministratori di gente che rapporti con il territorio ma è anche un partito giovane quindi ha una classe di dirigente giovane che va oltre anche alla nomenclatura anche quella della Lega un po' invecchiata perché Maroni e Calderoli ormai siamo al terzo passaggio però si interrogano è chiaro che devono loro stessi superare diciamo questo rapporto tra i due diciamo anziani del villaggio credo credo che per ora il punto di caduta è stato quello tu ci devi assicurare che non solo il federalismo perché poi per carità il federalismo sicuramente c'è ma insomma che il governo abbia una sua funzionalità sia nei numeri sia nelle cose Berlusconi lo sta facendo certo il fatto di aver anteposto per ora meno mediaticamente la giustizia o messo la giustizia sullo stesso piano al federalismo io non credo che la Lega lo potrà tollerare e prima o poi l'ordine verrà ristabilito però è chiaro che Berlusconi deve assicurare i numeri in Parlamento e nelle commissioni in aula e nelle commissioni e che il programma vada avanti in un certo modo perché anche la Lega non sembra voler votare altrimenti per la Lega è meglio il voto perché comunque è scritto per loro hanno sulla schedina due risultati mentre Berlusconi ne ha uno solo Lanna so che volevi avevi una cosa da dire a Facci emerge dalle cose dette anche da quello che ha detto Facci eccetera che la situazione è bloccata questo è il dato secondo me ma volevo leggere a Facci la conclusione del primo capitolo del mio libro che in realtà c'è una lunga citazione proprio di Filippo Facci nel 2006 Facci si chiedeva può esistere un'altra destra in un articolo secondo me molto importante e vorrei leggere quello che si domandava Facci c'è uno spazio serio a destra per il distinguo c'è spazio per chi non reputi Oriana Fallaci un vertice della cultura occidentale c'è spazio a destra per chi non sia ossessivamente filo israeliano c'è spazio per chi non sia clericale c'è spazio per i garantisti di vecchio stampo c'è spazio per chi non sia disposto a difendere sempre in ogni caso il corporativismo di tutte quelle categorie che notoriamente vado nel fisco c'è spazio per chi non si sdrai sulle battaglie conservatrici su famiglia coppie di fatto terrorismo radici cristiane c'è spazio per chi sia disposto a riconoscere un pur minimale fondamento a certe questioni ambientaliste sono questioni importanti che lui sollevava ora ho la risposta mi pare che non sia una risposta secondo me nel berlusconismo e nel PDL questo spazio non esiste quindi il problema si pone fuori del berlusconismo in un altro contesto questa secondo me è la risposta però colpiva del tuo discorso precedente il fatto che tu dai un grandissimo peso alle manifestazioni non perché non lo abbiano naturalmente il dato di cui poi nessuno parla da questo punto di vista è che noi continuiamo a parlare di chi va a votare ma io credo che uno dei fenomeni importanti in Italia è che l'astenzionismo compresa le elezioni politiche tanto propagandate nel 2008 e alle regionali di due anni dopo è enorme la maggior parte degli italiani soprattutto dei ceti medi riflessivi colti non vanno a votare allora io credo che noi dobbiamo intercettare quel tipo di opinione pubblica che ha scelto per ora di non riconoscersi in un certo rappresentazione della politica però veramente nelle elezioni del 2008 non c'è stato questa ma non era così alto no era altissimo come non alto se uno va a studiarsi non è molto alto sono ricordo i dati in Italia è sempre piuttosto c'è sempre molta partecipazione però gli studi che sono stati fatti sulla composizione la domanda che volevo era diversa cioè questa manifestazione anche delle donne così importante in piazza eccetera però non è una manifestazione diversa da quelle che nel corso degli anni si sono viste anche il pala sharp sta come i girotondi sono stati dati della società civile con i quali bisogna anche lavorare sono state delle cose importanti che però non sono mai state decisive nel determinare la caduta di Berlusconi questo non c'è stato mai però sono decisive nello spiegare perché Berlusconi poi rappresenta un governo che non fa niente che da 20 anni non fa una riforma ed è come dire un'oligarchia che si autotutela questo è un dato storico con il quale a parte gli ultimi 8 mesi ci avevi governato con Berlusconi sì ma io personalmente non ho governato perché non sono parlamentare io sono un cittadino che in questo momento che in questo momento dopo 20 anni io non avevo testo di partito mi sono iscritto a Futuro della Libertà perché lo ritengo un soggetto politico nuovo che sta richiamando e può richiamare tante persone della società civile ma io parto da zero da questa situazione non mi interessa io alleanza nazionale non mi interessa non ho mai fatto parte quindi il discorso non si pone è per analizzare per capire anche la difficoltà di finire perché tanta gente come me in questo momento sta tornando alla politica bisogna interrogarsi secondo me questo è un dato importante poi tutto il resto sono chiacchiere però appunto è innegabile che ci sia un problema per fini ecco questo è non io questo non lo vedo questo tema qui che hanno posto sia Marco Conti prima De Marchi che è un soggetto nuovo così come anche il Polo della Nazione è un soggetto nuovo che si sta delineando si sta proponendo alla società italiana ma saranno poi le elezioni tra un mese o tra due anni a determinare quale sarà il risultato prossimo lo vedremo e il problema del rapporto con Casini perché anche questo si pone mi sembra che tutte le ciambelle di salvataggio siano arrivate ma non è un problema la politica è fatta è dialettica è come dire composizione di questioni cioè niente è facile è costruzione la politica quindi dov'è il problema si sta lavorando anche quando si parla il Polo di scena non è un po' di centro semmai è un centro gravitazionale di forze di energie per rimettere in discussione e rimettere in moto la politica italiana quindi non vedo questi problemi vorrei fare proprio un'ultima domanda un po' a tutti perché penso l'abbiate seguito invece su la questione su Berlusconi e il Vaticano e se da lì possono arrivare altri problemi ieri c'è stato questo incontro lo chiedo a Conti per primo ma insomma mi piacerebbe sentire tutti anche Facci che ha scritto un pezzo invece dove sconsigliava Berlusconi di imbarcarsi nella vicenda del testamento biologico ci manca quello però invece sembra leggere i giornali di oggi che sia effettivamente una richiesta che dal Vaticano è stata fatta a Berlusconi di mettere mano alla legge sul testamento biologico e quindi se questo riapre perché anche quello è un interlocutore molto importante diciamo il rapporto di Berlusconi con il Vaticano peraltro lo ha rivendicato lui non è che è sempre stato un rapporto ottimo perché è abbastato un pochettino anche sullo scambio di cose che sono la novità e degli ultimi settimane degli ultimi mesi ovvero sia dal caso D'Addario che le prime prese distanze non parlare poi del caso Boffo poi comunque sia con Rubi è evidente che qualcosa si è mosso nei sagri palazzi perché la spinta è venuta dal basso questo c'era già prima però ovviamente è diventato forte talmente forte che poi appunto domenica visto che si ricordava prima più volte la manifestazione di piazza su quel palco c'era anche quella suora salesiana che effettivamente non deve essere andata così non doveva era di passaggio quindi chiaro che c'è un movimento poi che ci siano che Berlusconi abbia anche interesse a tirar fuori i temi come l'ha fatto per la giustizia che gli serve per una cosa per l'economia il attestamento perché lì c'è un altro scambio cioè tu sono tutti scambi per sentire Bordin perché vi devo chiedere delle risposte telegrafiche perché abbiamo meno di un minuto mi sono disegnati qua è facile e come le cose di Wikileaks ieri pubblicate su gli americani su Berlusconi l'atteggiamento del Vaticano è identico ne parlano malissimo però poi in realtà dicono possiamo usarlo ci può essere utile e il Presidente del Consiglio si fa usare fanno testo le esenzioni o le leggi sul testamento biologico la cosa è un'altra la suora sul palco però dimostra che in realtà poi questa mitica unità dei cattolici che rispondono a uno schiocco di vita del Vaticano non c'è e questa è una cosa ormai acquisita negli anni 70 noi facciamo finta di credere che il Vaticano organizzi il voto di tutti i cattolici palesemente non è vero questo vale per tutti vi devo salutare il tempo è scaduto grazie a tutti appuntamento subito dopo con il meteo il dubbio di Vaim e poi alle 10 Bookstore di Alain Elkamp bene sia oggi che nei prossimi giorni abbiamo un continuo andare un po' verso il meglio un po' verso il peggio senza come dire il meglio non arriva mai a bellissimo il peggio non arriva mai a bruttissimo però ci sono cambiamenti anche in zone diverse dell'Italia ci sono tendenze diverse vediamo un po' di mettere ordine in questa situazione che non è molto lineare la giornata di oggi al sud ci sono ancora delle piogge che diventano sempre più isolate quindi qui le cose migliorano a fine giornata pensiamo che piogge non ce ne saranno più e poi abbiamo questa buona parte della giornata con un cielo poco parzialmente nuvoloso insomma una giornata particolarmente tranquilla in qualche modo la tendenza a fine giornata è a qualche velatura sulle zone di nord ovest Corsica e Sardegna quindi il settore più occidentale sono velature sottili non portano assolutamente piogge o altro ma è il segno che qualcosa intende intende cambiare passiamo prima attraverso i venti poi vediamo cosa succede domani sono ancora forti sui canali fra le isole maggiori sul marionio su parte del tirreno meridionale nord ovest come direzione il moto ondoso è ancora piuttosto intenso perché dove i venti sono forti in qualche caso erano fortissimi come sullo Ionia quindi il moto ondoso è ancora significativo molto agitato per intenderci però nel complesso i bacini più meridionali hanno moto ondoso piuttosto forte quelli centrali tendono a mosso molto mosso che è una cosa come dire media e quelli più settentrionali con un po' di tempo tendono a tornare poco mossi perché i venti li diventano deboli vediamo la giornata di domani in due fasi perché appunto c'è questo cambiamento prima fase le velature che oggi si affacciano si intensificano un po' su tutto questo settore occidentale diventando un po' più spesse vale a dire coprono un po' più il sole la giornata si presenta un po' grigia velature più sottili invece per quello che riguarda il resto del nord e le zone centrali questa situazione va migliorando ecco perché abbiamo staccato queste nuvole dalle altre apparentemente uguali queste velature piuttosto spesse che interessano in sud il sud diventeranno un po' più intense quindi seconda parte diciamo fine della giornata di domenica al nord e al centro più che qualche nuvola non c'è quindi la situazione resta o torna abbastanza tranquilla ma dall'appennino centro meridionale tutte le regioni tirreniche la Sicilia è un po' anche sul versante adriatico queste nuvole diventano più intense e danno qualche pioggia segno che lì nella giornata di lunedì troveremo una situazione sicuramente un pochino diversa le temperature queste sono quelle previste per la giornata di oggi siamo a 1500 metri dobbiamo valutare i colori siamo fra il giallo e il verde chiaro che sono temperature ancora sopra la norma guardiamo la giornata di domani non cambia molto ma un po' lo scenario comincia a cambiare siamo tutte in zona verde chiaro assolutamente normali le temperature però guardate a est a nord est quindi in alto a destra questa zona più blu che rappresenta sicuramente aria molto più fredda e questa almeno il versante adriatico nel corso della prossima settimana direi che ci si affaccia il sabato quando è possibile facciamo vedere delle foto di natura di animali ne avevo due non simili ma insomma tutte piuttosto belle questa me l'ha mandata Lorenzo questi gabbiani in primo piano con sfondo ovviamente marino che non guasta e l'altra invece me l'ha mandata Oreste e sono dei dei cuccioli dei pulcini di cigno che hanno tre giorni e qualcuno vedete nuota qualcuno trova più comodo farsi dare un passaggio dalla mare molto belle quando ci sono questi piccoli di animali noi ci vediamo domani sempre alle sette a partire dalle sette e ventisei adesso c'è Enrico Vaime con il suo dubbio Buongiorno ogni tanto qualcuno tenta di enumerare i partiti le formazioni politiche le aggregazioni più o meno ideologiche che formano il panorama della nostra vita pubblica è un panorama frastagliato molto mosso in continuo di venire è colpito da bradisismi e sommovimenti per cui spesso cambia assetto e aspetto nell'arco addirittura di una giornata se invece si riesce a dire quanti sono i partiti e allora si può considerare fortunati lo si può fare però soltanto a tempo cioè facendo precedere questa enumerazione dalla frase al momento i partiti i politici presenti sono 19 sono tornati 19 ecco solo così si riesce a arrivare a una cifra approssimativa ovviamente ma quello è perché la politica è percorsa da sommovimenti continui che modificano l'assetto che modificano la formazione anche il materiale umano ora può capitare come in questo periodo che un partito o una parte di esso si scioglie e confluisce da altre parti ora non necessariamente si cambiano le intenzioni fondamentalmente rimangono gli stessi con gli stessi discorsi gli stessi obiettivi più o meno cambiano solo i dirigenti cambia la formazione alcuni si spostano da un punto all'altro ma cambiano nome per esempio ma la composizione il materiale umano rimangono quelli e quindi i criteri di valutazione non è detto che debbano cambiare quello è quello è nella nuova formazione eventuale che si forma da un confluire da un scindersi ecco nella nuova formazione si verificano ancora le stesse simpatie le stesse antipatie le gelosie le sofferenze dice ma allora perché cambiano cambiano perché secondo me si annoiano dopo un po' hanno bisogno di qualche novità e quindi cambiano nome cambiano numero legale che ne so innanzitutto per fare un partito non c'è bisogno di avere un numero legale non esiste perché un partito si chiami tale deve avere totti scritti no due o tre già è un partito quindi già è facile no ci sono dei partiti di due tre bi posti tri posti qualcuno quattro porte insomma ci sono partiti anche di consistenza vicina al ridicolo ora perché succede questo perché 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 la gente che sceglie questa carriera ha bisogno di essere garantita in qualche modo e con la trasformazione della legge elettorale essendo cadute come tutti sappiamo le preferenze le liste elettorali vengono formate dalle segreterie che scelgono venga questo venga quello non solo ma inseriscono nel listone del partito anche degli ospiti diciamo così dei candidati che vengono eletti col sistema del a buon rendere cioè tu ti sei infilato come cosiddetto indipendente nella nostra lista se vieni eletto dai attento perché qualcosina indietro ce la devi dare questo voglio dire questo è ammesso è una delle regole del gioco e quindi va bene così ora ci sono formazioni particolarmente irrequiete che si allargano e si restringono come fossero di gomma ci sono punti punti di forza personaggi chiave pochi per la verità molto pochi il politico come la donna è mobile se vogliamo aggiungere anche qual piuma il vento completiamo questa definizione operistica e cambia cerca di cambiare cerca di presentarsi con dei motivi di novità non solo a volte cambia partito ma cambia corrente cambia cambia look no il look è sempre quello da messo comunale di provincia a come massimo centomila abitanti comunque sono abbastanza tristi diciamolo francamente come un po' impiegatizi ma questo non incide minimamente anzi l'elettore è più tranquillo se vede uno squallor che si presenta a rappresentarlo in Parlamento allora il politico dicevamo cambia a volte idea cambia formazione si sposta di qua e di là e giustifica questa sua irrequietezza con la frase che va detta con un sorrisetto di sufficienza solo i cretini non cambiano idea che è una frase di per sé abbastanza cretina ma soprattutto ingiusta comunque vabbè i cretini non cambiano idea quindi evidentemente questi politici sono intelligentissimi perché schizzano da un punto all'altro delle ideologie più diciamo diverse tra loro benissimo ora quanti sono i partiti presenti nelle camere è complicato abbiamo detto dirlo e non si può fare non si può neanche stabilire con certezza quali sono i leader perché anche quelli si spostano un po' qui e un po' lì in questi giorni per esempio stiamo assistendo all'aggregarsi e al disgregarsi di una formazione politica in fermento diciamo così di fresca formazione e di fresco dissolvimento se va avanti così che succede che col passare delle ore vengono date delle notizie di defezioni o anche di ricopattamenti misteriosi un rassemblement come lo chiamano quelli nel tentativo di sprovincializzare un pochino sta sfaldandosi diciamolo però questo dare continuamente notizie di arrivi e partenze movimenta in qualche modo lo fa essere presente si fanno per esempio dei nomi di gente che va e viene assolutamente sconosciuti per l'elettorato per noi io in questa occasione in questi giorni ho scoperto l'esistenza in vita di personaggi che sono eletti da 3-4 legislature che non ho mai sentito nominare e probabilmente mai li sentirò nominare però esistono e vengono appunto fuori nei momenti bui come questo qui questi nomi che sono nomi anche buffi certi alcuni adesso non li faccio ne faccio uno inventato l'onorevole Piripicchi in qualsiasi formazione politica c'è un onorevole Piripicchi cioè uno con cognome buffo che non conta niente benissimo l'onorevole Piripicchi nessuno si era accorto che c'era però adesso si perché perché se ne va da una parte all'altra e allora così anonimo com'è non lo conoscono neanche i coinquilini del suo condominio bene figurati gli elettori all'improvviso va sui giornali va nel titolo e nel titolo del giornale c'è scritto anche Piripicchi se ne va e quindi è il momento in cui uno finalmente si sente esistente si sente vero si sente presente e forse si salva la vita perché perché sono questi personaggi dal cognome tradito abbastanza sconosciuti sono quelli che durano una legislatura poi c'ha ogni quindi il fatto di venire riproposti forse li fa conoscere forse li fa chi lo sa rieleggere poveri Piripicchi senza la possibilità della prospettiva della pensione è dura è durissima comunque la politica è questa qui più o meno l'ho raccontata in maniera qualunquistica volutamente con un certo distacco un po' snobbettino se volete ma così mi risulta al momento la colpa non è mia alcuni dicono che sia di Piripicchi oi che ne ma non è non è fuori senale Grazie a tutti